Vorrei che il mondo fosse un posto in cui trionfasse la giustizia, in cui l'idealismo che hai dimostrato fosse ricompensato e non usato contro di te. Sfortunatamente non viviamo in un mondo simile. Buffo. Ho sempre pensato che il mondo sia come noi lo facciamo. Sfortunatamente non viviamo in un mondo. Sfortunatamente non viviamo in un mondo. Che accadono nel mondo non sono indipendenti tra di loro. Cioè la possibilità che accada un grande cambiamento in un qualsiasi campo non è un fatto casuale. È un fatto correlato al fatto che in quello stesso momento nella società stanno avvenendo altri cambiamenti. Esiste una risonanza tra gli esseri umani per cui in certe epoche gli occhi di tutti si aprono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non esiste nessun oggetto al mondo che sia isolabile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.